L'azzeramento dei vertici dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per infiltrazioni mafiose e le carenze e criticità di un comparto da sempre in affanno. Il quadro della sanità calabrese è più che mai allarmante dopo gli annunci del ministro della salute Giulia Grillo il governo sembra ora intenzionato a fare sul serio. Il premier Giuseppe Conte ha condiviso infatti la necessità di un decreto per affrontare e superare l'emergenza della sanità calabrese evidenziata dal ministro della salute Grillo nell'incontro con il presidente del consiglio che si è tenuto nella giornata di mercoledì a Palazzo Chigi. Il decreto annunciato dalla ministra dopo la sua visita nei nosocomi di Polistena e Locri conterrà misure forti per il ripristino della legalità fino alla rimozione completa delle figure apicali della sanità calabrese. Bisognerà ancora attendere qualche giorno prima che venga redatto e messo in pratica ma il famoso decreto Calabria sarà presto realtà. Grazie a tutti.